Sento un buonissimo profumo di castagne e mi avvicino allo stand di Barbara Ricci. Barbara, buonasera. Buonasera. Cosa abbiamo portato quest'anno al Venolia 2019 qui a Venafro? Allora noi proponiamo le caldarroste con marroni di Viterbo e subito dopo caciocavallo all'impiccata. Parliamo di questo caciocavallo all'impiccata che è proprio, siamo nel cuore dei territori di questo caciocavallo. Raccontiamo un po' la storia. Allora questo caciocavallo viene da Agnone, l'azienda è di Pasquo. Noi usiamo solo questo prodotto qua perché pensiamo sia il migliore, il più gustoso visto che l'abbiamo assaggiato anche noi e quindi cerchiamo di usare sempre solo questo.